Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Non ha bisogno di presentazioni Federica Pellegrini che, sin dai suoi esordi nel nuoto, ha messo il cuore in vasca ad ogni bracciata, aggiudicandosi un medagliere da vera leggenda. E ora che la sua carriera si è conclusa neanche a dirlo con una vittoria conquista pure con il suo fascino. Lo scatto ha incantato tutti. A fine carriera ha consegnato di sé l'immagine di una sportiva che ha dato lustro ai colori dell'Italia nel mondo. Una vera e propria leggenda del nuoto, Federica Pellegrini, che ha vinto, convinto e conquistato il cuore con la sua tenacia. E ora è pronta al grande passo, sì, proprio con il suo ormai ex allenatore. Nel frattempo, però, conquista anche i suoi follower con una mise a dir poco sensazionale. Che gambe, Federica Pellegrini conquista tutti. E sorprende così. Ha dato l'addio alla sua carriera da nuotatrice solo poco tempo fa, con tanta commozione. Risale, infatti, solo a novembre scorso, il saluto definitivo alle gare, quando ha disputato l'ultima, a Riccione, vincendone i 200 stile libero. Come, del resto, ha sempre fatto per la gioia del suo pubblico e di quanti l'hanno ammirata incondizionatamente. Ha dato tantissimo, Federica, al nuoto e allo sport italiano in genere, imponendosi con il suo stile, la sua classe, la sua forza, la sua energia. Un grande sprint in vasca, ma anche una leggiadria da farfalla, all'occorrenza, come quando volteggiò, da sorprendente superospite, abballando con le stelle. Non ci si finisce mai di stupire di quanto forza e delicatezza possano coesistere. E farlo benissimo. Ora la divina, così soprannominata, può pensare anche ad altro. Il suo matrimonio con Matteo Giunta, che è stato anche il suo allenatore per sette anni. Nel frattempo, si concede degli scatti social all'insegna della sensualità e della grinta. E i fan impazziscono. Il dettaglio scottante che manda invisibilio i fan. Federica Pellegrini incanta i suoi follower e non è certo una novità, visto che la sua bellezza, la sua classe e il suo stile sono un fatto risaputo. Ma in questo particolare scatto su Instagram, in occasione del fashion show di un noto marchio di moda, si mostra anche molto sexy. Che gambe, scrive un suo fan. E di fatti si tratta di gambe da sportiva, allenate e in formissima. Ma c'è anche un altro dettaglio messo in evidenza dall'immagine. Ovvero la giacca è aperta e sotto. Non si vede nulla in realtà. Ma lo scopo di un outfit pensato per essere sensuale è proprio quello. Non far vedere nulla. Come quando si indossa una gonna con lo spacco. La sua bellezza, ben sottolineata da tutti i suoi follower, che la ammirano quasi rapiti, non è ovviamente mai volgare. Anzi, la mise è molto elegante, originale, tesa a evidenziarne anche il carisma. Sì, perché per indossare un capo del genere, ammiccando con leggerezza, occorre avere una personalità molto forte. Una caratteristica che a Federica Pellegrini certamente non manca. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!